ciao ragazze ciao a tutte e tutti nuovo video all shopping della maddalena e niente questo vuole essere un video dove faccio shopping insieme a voi ovvero ieri sono stata la maddalena ho fatto un bel po di shopping forse avete intravisto qualcosa su instagram perché ho visto che alcune di voi mi hanno seguito e nulla andiamo dunque vi metterò alcune foto della nel montaggio delle scarpe che ho preso maddalena come mi stanno addosso e niente poi casomai farò un piccolo close up di come sono le scarpe indossate non lo so se riuscirò ma ci provo e niente allora comincio anche la maglia ho preso una bella maglietta col cigno tutto glitterozzo glitterazzi non so come dire però vabbè dettagli e niente andiamo subito a dunque con farvi vedere queste pavolose scarpe che sono questo disegno qua non so se si può intravedere questo questo qui si vabbè comunque andiamo a dunque meglio e sono scarpe 35 misura 35 si sono un piccolo piede devo metterlo un piede piccolo e queste sono sì sono le scarpe queste nulla queste sono le scarpe e non so come farvele vedere perciò farò un piccolo close up se mi riesce mentre parlo scorreranno le immagini di come indosso le mie scarpe e poi seconda cosa allora unis 1 i scontri 75 sono le aspettate un attimo si le le scarpe 75 euro aspettate voi faccio vedere 75 euro vedete non si vede mai 75 euro poi mentre la maglia è costata 25 euro 25 sì e la maglia è questa che non farò close up perché sono sudata e non va al caso mentre per i piedi chi se ne tanto lo utilizzate ieri quindi vabbè questa è la maglia in sé vedete col cigno bianco glitterato ecco qua nulla di che anzi no nulla di che no perché nera quest'anno non so perché ma ho deciso di indossare il nero a gogo perché mi sta piacendo un botto morirò di caldo ma che se ne frega alla fine sta maglia è bella maglia è bella fresca sta moglietta ed è bellissima vedete già e niente ragazze questo è però close up senza indossarla però proveremo e questo era tutto niente ragazze questo è quanto appunto non so quante volte ho detto vi dirò all'inizio alla fine mettete like con le con l'emoji vabbè quello che insomma nel montaggio vi dirò di mettere like dall'inizio e alla fine che sarebbe adesso perché il video è terminato comunque spero che stiate bene buona estate a tutte buone vacanze a tutte e noi ci si becca un prossimo video mettete like appunto commentate iscrivetevi mettete la campanella baci seguitemi continuamente su instagram youtube per me l'aliena trattino va sotto vi lascio il profilo il nome del mio profilo nel montaggio se riesco non lo so ciao